Fitta giornata di incontri per continuare a definire la squadra di governo e per tentare di trovare un ordine al complicato puzzle di presidenze e vicepresidenze per i due rami del Parlamento. In serata, il più atteso di tutti, il vertice di maggioranza tra Giorgio Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, dopo il faccia a faccia di ieri tra i leader di Forza Italia e della Lega a Villagrande. Nel centro-destra si ostenta sicurezza dicendo che tutto è pronto e che, a parte i tempi tecnici che si devono rispettare per forza, non ci sarà alcun ritardo. Piuttosto esplicito sul punto è Fabio Rampelli, che dà delle capre a tutti quelli che continuano a parlare di tempi lunghi, visto che il timing che porta alla formazione del governo è dettato dalla Costituzione. L'incontro fra i tre leader, spiega il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanni Battista Fazzolari, responsabile del programma del partito, serve a delineare meglio il quadro perché ovviamente è tutto un gioco in quastro, finché uno non ha tutte le caselle in ballo definite. Ma non perché ci siano delle criticità particolari, assicura. Sono ottimista e tutto pronto, assicura invece Giorgia Meloni. Prima del vertice, Salvini riunisce di nuovo il Consiglio federale e alla Camera incontra alcuni esponenti del partito, come Roberto Calderoli, che viene dato tra i papabili per la presidenza del Senato. Anche se per quello stesso incarico salgono di ora in ora le quotazioni di Ignazio Larussa, che nel pomeriggio viene anche ricevuto dal leader di Forza Italia nella sua residenza sull'Appia. Intanto, in vista di domani, quando le Camere finalmente potranno insediarsi e cominciare a votare per i presidenti, continuano le procedure di accreditamento degli eletti. Al Senato, tra gli altri, si registrano Berlusconi, che annuncia il suo ritorno alla Camera Alta con un tweet, eccomi di nuovo, e Marcello Pera, già presidente di Palazzo Madama dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006, passato nel frattempo da Forza Italia al partito di Giorgia Meloni. Alla Camera, tra gli altri, varcano la sala del Mappamondo per accreditarsi Giuseppe Conte, Enrico Letta e Antonio Tagliani. Per completare le procedure c'è tempo fino a venerdì alle 20, ma è prevedibile che chi non lo abbia ancora fatto si presenterà domani, dopo aver partecipato alla prima chiama per l'elezione del presidente di Montecitorio, per la quale in realtà non si annunciano tempi brevissimi. Si è registrata invece ieri pomeriggio Giorgia Meloni, che si dice ottimista anche sul fatto che si riesca ad eleggere il presidente del Senato entro domani. Penso che non possiamo perdere tempo, la situazione dell'Italia non è facile, dichiara la Premier in pectore, che a Montecitorio incontra vari big del partito, tra cui la russa, Giovanni Battista Fazzolari, Giovanni Donzelli e Andrea Del Mastro. Se la guida di Palazzo Madama dovesse toccare davvero a Fratelli d'Italia, alla Camera, sullo scranno più alto, potrebbe arrivare un esponente della Lega. E il nome sul quale Salvini punta di più è quello di Riccardo Molinari, attuale capogruppo del partito. Spero proprio che il nuovo presidente del Senato venga eletto al primo scrutinio. Non sarebbe un buon segnale se ciò non avvenisse, spiega Maurizio Gasparri, secondo il quale il 90% dei nuovi ministri sarà senz'altro politico. In attesa però che si decidano gli equilibri, almeno nei due rami del Parlamento, l'opposizione si organizza, ma allo stesso tempo si divide. Il PD infatti riunisce tutti gli eletti per fare il punto sulle votazioni di domani, decidendo di optare per la scheda bianca, almeno per le prime due tornate, e per discutere anche dell'ipotesi di fare l'opposizione insieme al Movimento 5 Stelle, così come proposto da Enrico Letta. Ma è sulla pace che i fronti si dividono. Ognuno propone di scendere in piazza, ma ognuno con una motivazione diversa. C'è chi vuole il cessate e il fuoco, chi vuole il negoziato, o chi, prima di tutto, chiede che Putin si ritiri dall'Ucraina. Sembra che ognuno voglia fare un po' il protagonista, e già questo è un segno che la pace non c'è, perché quando c'è la pace c'è anche l'unità, commenta il cardinale Pietro Parolin. In vista di domani, intanto, mentre la senatrice a vita Liliana Segre, che da decana dell'Assemblea dovrà presiedere la prima seduta di Palazzo Madama, racconta di aver già scritto il suo discorso e di essere emozionata, c'è chi nell'opposizione fa osservare che un eventuale passaggio di testimone, tra lei, vittima delle leggi razziali, e Ignazio Larussa, che si vanta di essere un collezionista di busti di Mussolini, sarebbe un'immagine destinata a far discutere a lungo.